Legato al clan di Cosa Nostra, Famiglia Emanuello, è in carcere da quattro anni, coinvolto nelle operazioni antimafia denominate tagli pregiati, tetragona, mercante in fiera, per associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga, il gelese Nicola Liardo, 42 anni, aveva un patrimonio che nelle ultime ore è stato messo sotto chiave da carabinieri e guardia di finanza. La misura di prevenzione del sequestro patrimoniale è stata emessa dal Tribunale Misure di Prevenzione di Caltanissetta che ha accolto la proposta della Procura della Repubblica del Capoluogo in Seno. Il valore dei beni mobili ed immobili di un intero complesso aziendale è di circa un milione di euro. La complessa indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, ha visto una stretta e costante collaborazione tra carabinieri e finanza nella ricerca di fonti di prova e dell'accurata e compiuta dimostrazione della sproporzione tra reddito e patrimonio del nucleo familiare di Liardo. Sottoposti a sequestro sono finiti due immobili che si trovano nel centro storico di Gela, tra cui la casa di abitazione della famiglia del 42enne. Quattro terreni agricoli che si estendono per diversi ettari situati nelle contrade Manfria e Giblia Muto nell'Agro Gelese. Quattro veicoli a motore per un valore di 25 mila euro circa e la pizzeria Tavola Calda Spidi Pizza di Via Venezia. Le operazioni di sequestro hanno visto impiegate simultaneamente pattuglie del nucleo di polizia tributaria di Caltanissetta e della reparto territoriale di Gela dell'arma dei carabinieri nei comuni di Caltanissetta e Gela. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta l'azione criminale di Nicola Liardo, era stata tanto pervasiva da infiltrarsi, così è chiarito nel provvedimento di sequestro, nella gestione dell'attività. In questo caso, anche se prestanome gestivano il locale, i proventi, ritengono gli inquirenti, servivano a sostenere la famiglia di Liardo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i beni sequestrati sono stati affidati ad un apposito amministratore giudiziario in attesa della confisca.